Abbiamo disputato un'ottima gara, sono contento per il risultato, soprattutto per la prestazione, la squadra è scesa in campo con la giusta determinazione, diciamo che abbiamo messo alle corde subito il leno, la squadra ben allenata e ben organizzata, però diciamo che lo spessore tecnico e la nostra forza sicuramente sono usciti fuori maggiormente nell'arco della partita, abbiamo sbloccato la partita con Di Roberto che è stato capace subito a sfruttare un'occasione in aria, ne abbiamo sciupate almeno un paio nel primo tempo, poi siamo scesi in campo nel secondo tempo con la voglia di chiudere la partita, così è stato, una volta andati sul 2-0 con Raffaele Cerrasuolo abbiamo avuto altre occasioni per chiudere il match, però non ci siamo riusciti e lì abbiamo concesso un po' di campo agli avversari che hanno riaperto la partita. Consapevoli però di non rischiare insomma più di tanto, la squadra ha lottato, la squadra a corso, mi è piaciuto come è stata interpretata la partita all'inizio alla fine, sono contento, ripeto, della prestazione di tutti, felice per i nuovi che comunque hanno fatto gol, si sono inseriti bene, una settimana in più di lavoro sicuramente in campo si è cominciato a vedere qualche cosa di più di quello che si era visto nella settimana precedente, parlo per i nuovi, le conferme da parte dei vecchi sono state importanti e ci prepariamo ai due match più importanti del campionato che comunque definiranno la classifica almeno per quanto riguarda la prima parte del campionato, quindi aspettando sempre poi la decisione della giustizia sportiva per quanto riguarda la data del recupero con la partita con l'Arpino. Quindi contento, sereni i giocatori, questo fa sì che ci prepareremo al meglio per la partita di domenica importante contro il Monte San Giovanni Campano.